Buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento dedicato all'informazione. In apertura parliamo del Presidente del Consiglio che oggi ha parlato dei migranti e del terribile naufragio. Finché ci saranno partenze su barche in pessime condizioni e con pessime condizioni meteo ci saranno perdite di vita, ha detto la Premier Giorgia Meloni alla Camera rispondendo all'interrogazione di Riccardo Maggi, segretario di Più Europa, sul naufragio dell'imbarcazione carica di migranti a largo delle coste libiche. Bisogna investire sulle rotte legali, ha detto la Presidente, da esattamente il lavoro che sta facendo il Governo. La nostra coscienza è a posto, spero che chi attacca il Governo ma non dice una parola sugli scafisti possa dire lo stesso. E ancora ha detto, mi stupisce che per fini politici si finisca per mettere in discussione l'onore e l'operato di persone che rischiano la vita tutti i giorni per salvare vite umane e l'onore dell'Italia, che da sola, ha detto la Premier, affronta questo dramma offrendo uno strumento a chi vuole continuare a scaricare tutto su di noi. E adesso invece parliamo di un gravissimo incidente avvenuto questa mattina lungo l'autostrada 22, un maxi tamponamento tra vari mezzi, sei persone sono rimaste ferite, vi raccontiamo che cosa è successo e vi facciamo vedere alcune immagini. Intervento dei vigili del fuoco stamattina per un tamponamento che ha interessato otto mezzi tra autovetture e mezzi pesanti sull'autostrada A22 in direzione sud dopo il casello di Nogarole Rocca. Sei persone sono rimaste ferite. I vigili del fuoco arrivati dalla centrale di Verona con 12 operatori e tre automezzi, tra cui un autogru, hanno operato per mettere in sicurezza i veicoli coinvolti ed estrarre due autisti dei mezzi pesanti incastrati tra le lamiere, per poi affidarli alle cure del personale sanitario. A causa dei tamponamenti avvenuti, nello stesso tratto in direzione nord è intervenuta una squadra di Mantova che ha soccorso i feriti e messo in sicurezza i mezzi coinvolti. L'autostrada in direzione sud è stata chiusa al traffico per tutta la mattinata per consentire il ripristino delle condizioni di sicurezza della sede stradale. Sul posto anche Polstrada e gli ausiliari della viabilità. E adesso parliamo della riforma fiscale in discussione. Dopo il confronto di ieri con i sindacati sui principi della delega per la riforma fiscale, oggi sono stati ricevuti a Palazzo Chigi i rappresentanti delle associazioni di categoria e degli ordini professionali che hanno espresso un parere positivo per una riforma organica e completa, fornendo importanti e concreti contributi al dibattito. Lo riferisce Palazzo Chigi con una nota. E adesso parliamo di un incendio, paura in una palazzina di Due Carrare in provincia di Padova. Verso le 5 di questa mattina è scoppiato un incendio nell'edificio di Due Piani in via Galileo Galilei. Un uomo è rimasto ferito. Sono stati momenti molto concitati. Intervento dei vigili del fuoco alle 5 di stamattina per l'incendio in un appartamento di una palazzina di Due Piani in via Galilei a Due Carrare in provincia di Padova. Lievemente ostionato un uomo. Alla lavoro le squadre del comando centrale di Padova con il supporto di una squadra dell'autobot e del distaccamento di Abano per un totale di 15 unità. Sul posto anche il funzionario di guardia. L'incendio è partito dalla mansarda e si è propagato al piano superiore e poi al tetto. Un uomo lievemente ostionato nel tentativo di spegnere le fiamme è stato affidato alle cure del personale sanitario. Ancora è evacuato lo stabile, composto da 7 appartamenti per consentire le operazioni di messa in sicurezza della struttura. Le cause dell'incendio sono ancora al vaglio dei tecnici, dei vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri. Ed ora una notizia che arriva dal mondo della sanità veneta. In azienda ospedale Università di Padova per la prima volta al mondo è stato eseguito un triplo intervento a cuore battente. L'operazione eseguita dall'equip di cardiochirurgia capitanata dal professor Gerosa ha richiesto uno studio molto particolare. Il paziente è un uomo di 62 anni che era stato colpito da insufficienza mitralica severa e fibrillazione atriale con dispnea da sforzo e difficoltà a respirare. Ora sta bene. L'intervento al cuore è stato realizzato come avete sentito a cuore battente senza l'uso della circolazione extracorporea dunque senza fermare il cuore attraverso una ferita di 5 cm in quinto spazio intercostale sinistro. Un intervento innovativo che ha richiesto un grande studio, un grande lavoro ma che offre delle prospettive molto importanti. Adesso parliamo di un altro incidente che si è verificato nella serata di ieri. Andiamo in provincia di Venezia a Dolo dove un uomo ha perso completamente il controllo dell'automobile che stava guidando. Guardate cosa è successo. Ha perso il controllo della guida e l'auto è finita contro una recinzione in cemento e contro due autobus parcheggiati. L'incidente si è verificato martedì sera dopo le 23 a Dolo in via Matteotti. L'uomo al volante che è uscito di strada per ragioni al momento ancora da ricostruire è rimasto ferito ed è stato preso in cura dal personale del SUEM e trasferito all'ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro per la ricostruzione della dinamica. Per mettere in sicurezza l'area hanno lavorato per diverse ore i vigili del fuoco. Adesso parliamo di un incidente drammatico che si è verificato a Vighizzolo d'Este in provincia di Padova dove un uomo a bordo di una moto ha travolto due pedoni alla guida di una moto da cross. Subito dopo si è dato alla fuga mentre le persone ferite sono rimaste a terra. Una donna ha riportato la frattura del perone, un ragazzo un trauma alla caviglia. Il pirata della strada viaggiava senza la targa. Poco dopo però l'uomo si è costituito. E adesso parliamo della spiaggia di Jesolo. L'arenile cambierà. Allora cerchiamo di capire come sarà la spiaggia del futuro. È destinata a cambiare volto la spiaggia di Jesolo in provincia di Venezia. Le nuove esigenze hanno portato a disegnare un nuovo progetto che risponde al mercato del turismo. La spiaggia del futuro presto diventerà realtà in questa località che ogni anno richiama turisti da tutto il mondo. In consiglio comunale è stata adottata la variante al piano particolareggiato dell'arenile che prevede l'accorpamento dei settori che passeranno dagli attuali 31 ai futuri 16 che vedono ora definiti unità minime di gestione. Rientrano nel piano le concessioni attualmente esistenti quindi anche quelle relative ai chioschi garantendo gli spazi al noleggio natanti e centri velici con l'obiettivo di rispondere alle nuove esigenze di mercato. La suddivisione ha tenuto conto dei servizi esistenti ma considerato che le concessioni non sono omogenee anche della possibilità di nuove valorizzazioni delle aree. All'interno dell'unità minima di gestione che avranno in utilizzo i concessionari godranno di un certo grado di libertà per implementare servizi e migliorare l'esperienza degli utenti. Come da disposizione di legge la città deve garantire il 20 per cento del fronte concessionato a spiaggia libera. Il 13 per cento viene garantito dalle 5 macro aree della Foce, del Piave e del Sile, della zona Casabianca, della zona Croce Rossa e della Laguna del Morte, mentre le unità minime di gestione devono gestire il restante 7 per cento. Il percorso pedonale di cui il vecchio piano definisce anche il motivo a onda dei piastroni potrà essere rinnovato purché mantenga omogeneità di realizzazione lungo tutta la spiaggia. Pioggia e grandine questa mattina in molte zone del Veneto. In alcuni punti questo scenario insolito per il 15 marzo ha lasciato anche una coltre bianca a terra. Ci sono stati anche lampi e tuoni, una perturbazione che poi ha lasciato spazio a una giornata soleggiata e le condizioni dovrebbero mantenere il cielo sereno anche per la giornata di domani. Si chiude qui questo spazio dedicato alle ultime notizie. Come sempre grazie per la vostra attenzione e vi do la rivederci.